ma bene a tutti siamo tornati su un nuovo video perché oggi è arrivata diciamo il numero 4 di magica storia sonora finalmente hanno capito di non fare tutto quel cartone che c'è e oggi c'è almeno soltanto tutta la plastica diciamo almeno si risparmiano il cartone qua c'è il genio e questo è il libro di magico storia sonora aladin che lo puoi leggere mentre diciamo ascolti quello che dice andiamo a vedere un po com'è presentato dentro diciamo il libro questa è tutta la storia le illustrazioni sono fatti veramente bene si si questo signore qua è lo strano vecchio non c'è il nome abu la scimmietta simpaticissimo qua il genio dalla lampada mi piace troppo il profumo che fa ma il profumo dei libri nuovi mi piace troppo e questo comunque è il libro c'è la storia cartaccio adesso andiamo a vedere il genio da vicino apriamo il totale adesso si può fare con l'estrema calma ok dai guardarlo un po così è accettabile dai il caro genio dalla lampada con la sua nuvoletta con magica dicevamo poi è molto semplice la base rossa e questo è aladin e niente da il genio e da me è tutto ci vediamo al prossimo appuntamento vale vale